Semifinale di Coppa Italia, Coch piazza un'altra grandissima squadra, c'è Perugia ad attendervi a Bologna, che tipo di partita sarà? Sarà una partita complicatissima, sarà una partita dove Perugia deve far valere una rivalcia nei nostri confronti per la partita del 26 dicembre, sarà una partita complicata perché è una gara dentro fuori, sappiamo cosa voglia dire dentro fuori, le abbiamo provate, ultimamente, quindi serve grande attenzione, serve grande motivazione, serve la voglia di lottare su ogni pallone che sembrano frasi fratte, ma non sono frasi fatte assolutamente, serve la volontà di andarsi a prendere ogni singolo pallone, perché ogni singolo pallone è raggiungibile, sappiamo che abbiamo di fronte una squadra che è stata costruita per tutti questi grandi appuntamenti, al primo al quale ha partecipato, che è il campionato del mondo, l'ha vinto e adesso sono in semifinale di Coppa Italia.